La Leotta in pochissimo tempo ha raggiunto le case di tutti gli italiani, prima con la trasmissione sulla Serie B che la vedeva come conduttrice su Sky Sport Si è fatta apprezzare indistintamente da tutti, sia per la sua bravura che per la sua bellezza Il suo successo l'ha portata in poco tempo a divenire una reginetta su tutti i suoi profili social, dove è molto seguita Su Instagram può vantare circa 3,5 milioni di followers.In queste ultime ore di Letta Leotta ha postato una foto sul suo profilo Instagram che immediatamente si è viralizzata nella rete Una foto da urlo in tutta la sua strepitosa bellezza, mentre era in preparazione della trasmissione, proprio pochi istanti prima di andare in diretta Incurante di aver indossato il microfono, proprio questo a causa del suo peso gli ha fatto uno scherzo Scherzo che è stato gradito molto da tutti i fan.Il microfono, come consuetudine, viene agganciato alla camicetta che a causa del peso ha accentuato maggiormente la scollatura, permettendo ai suoi seguaci di poter dare una sbirciatina più approfondita A dimostrazione del gradimento di questa fotografia, ci sono i numerosissimi like che la stessa si è guadagnata in pochissimo tempo Affiancati dai commenti ed apprezzamenti dei numerosi fan, pronti a deroggiare bellezza e forma Grazie a tutti